In estate si ha paura di fare lo scrub corpo, l'esfoliazione scrub al corpo. Cosa più sbagliata che esiste? Si ha molta paura perché si teme che fare lo scrub corpo mandi via la bronzatura, ma questo è sbagliatissimo perché la melanina parte dall'interno del nostro corpo e si sprigiona sulla pelle con i raggi del sole. Lo scrub non manda via la melanina, anzi lo scrub corpo serve per pulire dal nostro corpo le cellule ossidate che durante l'estate si producono e che renderanno pulendole con lo scrub, quindi eliminando queste cellule ossidate sulla nostra pelle renderanno la nostra bronzatura ancora più bella, più luminosa, più dorata. In estate noi produciamo molte cellule morte proprio sul nostro corpo, ce ne sono molto di più in estate ed è importantissimo fare uno scrub corpo come questo. Questo scrub corpo contiene il saccariosio che fa un'esfoliazione naturale sulla nostra pelle, è anche molto delicata, molto molto delicata. Oltretutto contiene anche il burro di karité che è un importante idratante, mantiene proprio l'idratazione, è un ingrediente di lusso il burro di karité veramente perché va a aiutare la nostra pelle a rimanere levigata, idratata e soprattutto ad ammorbidirla. All'interno troviamo anche l'estratto di frutto di melone e di vaniglia che sono ricchissimi di vitamine e di antiossidanti, quindi andranno proprio a nutrire la nostra pelle ed è importante farlo soprattutto magari nei gomiti, su tutto il corpo ma anche sulle ginocchia, nelle parti dove la nostra pelle tende più a seccarsi. Vi capiterà d'estate, penso, di avere i gomiti un pochino più disidratati, quindi quello è il momento proprio per fare uno scrub corpo e insistere in questi punti qua che sono più delicati e più secchi. L'estratto di frutta di melone e di vaniglia va anche a aiutare la texture della nostra pelle, quindi sarà molto più luminosa. All'interno c'è anche l'estratto del succo di pompelmo che ha delle proprietà naturali esfolianti ed illuminanti sulla nostra pelle, soprattutto sulle pelli spente, quindi in estate è importantissimo fare uno scrub corpo, importantissimo. Nel mese di giugno è anche nella fascia promozionale dedicata a due prodotti al 15 o a tre più prodotti al 20%. Consiglio di abbinarlo alla crema corpo, alla nostra crema corpo che rimane molto, ne parlerò e farò un altro video, molto idratante, molto leggera, non è una crema corpo che va a appiccicare la pelle, quindi eccezionale d'estate. È una crema corpo con degli attivi estremamente idratanti e la potete applicare su tutto il corpo ma anche sul viso, la crema. Lo scrub questo è specifico per il corpo. Vi auguro un buon scrub corpo, mi raccomando. Se vuoi un'abbronzatura dorata, bella e che ti duri tanto, impara a fare scrub sul tuo corpo, soprattutto in estate.